Il suo contributo al grande progetto di riqualificazione urbana Laguna Verde è arrivato a settimo torinese Jean-Michel Wilmot, uno degli architetti più famosi del mondo. Non è importante, è essenziale. L'ecologia nell'edilizia non è importante, è essenziale, ci racconta Jean-Michel Wilmot, uno dei più noti architetti al mondo. A Nizza ha progettato persino uno stadio eco-compatibile. I suoi edifici sono a Parigi, a Seul, in Qatar e ora anche settimo torinese. Qui realizzerà una sorta di outlet della bioedilizia, alle Batimon, 70.000 metri quadri, la prima vetrina permanente in Europa dedicata ad espositori del settore dell'edilizia eco-compatibile. Come un museo si prevede attirerà 3 milioni di visitatori l'anno, 130 milioni la spesa, qualche investitore si sta già muovendo per partire con la realizzazione il prossimo anno. C'è un progetto urbano. Per Wilmot, incantato dal territorio torinese tra zone industriali, fiume e montagne, l'area retrostante dell'ospedale di Settimo, dove sorgerà le Batimon, dovrà diventare un territorio con spazi sociali e verdi, destinati a famiglie, giovani e anziani. Entusiasta il sindaco di Settimo, Aldo Corjat. È un progetto che punta ad avere dai 300 ai 400 imprese leader mondiali sul tema dell'edilizia sostenibile, che è un progetto che si inserisce in una location molto importante anche dal punto di vista della logistica, che ha caratteristiche internazionali. Le Batimon sarà uno dei primi progetti realizzati di Laguna Verde, l'ambiziosa idea di riqualificazione edilizia dell'area metropolitana di Settimo, quasi un milione di metri quadri da risistemare, di cui un terzo destinati a parco urbano.